La cultura come filiere viatico per il riscatto sociale di una comunità. L'associazione Capitanata.neo, in collaborazione con diverse realtà associative ed enti, ha presentato una proposta di programmazione al Comune di Foggia per coordinare una serie di iniziative volte ad approfondire e rilanciare la figura di Federico II di Svevia per promuovere maggiormente in modo coordinato la comunità. Il rilancio culturale, la promozione e l'internazionalizzazione della città di Foggia e di tutta la Capitanata passa anche attraverso la figura dello Stupor Mundi, definizione attribuita a Federico II proprio in virtù della sua rilevante importanza nella storia ed è stato già proposto dall'associazione Capitanata.neo nel documento contributo alla filiera della cultura presentato lo scorso anno. Questa visione è anche presente su una proposta della formazione politica Italia del Meridione nelle linee programmatiche approvate dal Comune di Foggia lo scorso 27 febbraio. L'idea di oggi è appunto quella di costituire una sorta di mano dove le dita non sono nessuna uguale all'altra ma assieme possono svolgere al meglio questo ruolo collaborando con le istituzioni perché Foggia si riappropri di questa storia. Quindi noi oggi presenteremo una serie di proposte strutturate e condivise con un viatico di quasi un anno temporale di svolgimento con il quale auspichiamo che il Comune di Foggia ma anche la provincia e gli altri enti e istituzioni, posso pensare alle fondazioni del territorio ce n'è una recentissima, secondo Federico, che possano convergere su questa visione che è ovviamente non definita ma che può essere integrata e inclusa con altre iniziative. Quindi creare una rete, magari a livello certamente pugliese ma anche del mezzogiorno e rilanciarla, può servire a internazionalizzare la nostra città perché Federico II è risaputo, è una figura davvero internazionale. Una rete da costruire con le realtà associative della città e del territorio perché no anche con associazioni o fondazioni dei territori vicini che hanno avuto modo di conoscere la storia di Federico II o ne hanno traccia del suo passaggio. Una filiera dunque per creare un ecosistema culturale che possa valorizzare il patrimonio storico di Foggia stimolare l'innovazione e l'educazione, promuovere la partecipazione cittadina e posizionare la città come punto di riferimento federiciano. Grazie a tutti.